ok ci siamo dov'essere perché non ci sono eccolo pull time e pesca siamo dal vivo pull time e pesca siamo dal vivo guardiamo passarlo a tutti i ragazzi guardiamo vediamo un po' un po' qualcuno quando qualche qualcuno persone senza bisogno 책 öRI ma non non e 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 poi ci vado anche di là devo settare tutto ragazzi poi parto eh e apposta e 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 vediamo se c'è vediamo se c'è adesso partiamo ragazzi e facciamo una bella pescata nel lago allora allora lago lago inventario ci abbiamo tutto si me l'ho preparato prima mappa viaggio acquista licenza prendo la pinca passata compra ok viaggio sii e e e e e e e vediamo un po' vediamo un po' tempi migliori luigi dov'è che devo andare qua vai a pesca tac vien dentro qua a vedere com'è lago uuuuh già un 1500 chiudi ah che bel posto però eh borca paletta aspetta che qua scrivo una cosa torna varignana dai zan pietro eh ho la pesca del lavoro zan pietro appena mi mi riassetto tra un po' di tranquillità ci torno a botta proprio eh devo aspettare due tre cose però ti posso garantire che fa anche abbastanza eh posso andare avanti qua c'è un bel corridoio eh vediamo un po' qua che cosa mi dice le ciao legend hello legend vediamo un po' magari tornare a pescare interessante però qua mi sa che è più da popper testa più ammata senza il biglione non mi piace da andare a vedere un altro posto non vedo un movimento non vedo un movimento allora facciamo così mappa mi sembra vediamo qua così cosa mi dice è strano molto strano molto strano molto strano interessante qua eh vediamo un po' così qua c'è già più fondo qua c'è già più fondo qua c'è già più fondo Allora, cambiamo subito ESC, mettiamo su questo qua, poi facciamo così, così, ecco vedi l'audio che si può saltare, perciò adesso attiriamo così, no, così, perfetto, ahia, ho preso delle erbazie, oh, e qua vi beccavo un bel premiozzo, qui se vi dice qualcosa, vediamo qua se riusciamo, eh, come lavora questo qua però, fa paura, eh, questo pesciolino fa paura, però, eh, guarda qua come lavora, eh, bamba, bellissimo, eh, riesco ad andare più in qua, ah, sì che ci riesco, perfetto, guarda che movimento che c'è lì, eh, bravo movimento, chissà se riusciamo a gestire la cosa, non, non, buon lancio questo me li va a cercare sotto ne ho su, ne ho giù su, ne ho giù per trovare l'angolo giusto però se io tiro così allora no, voglio cambiare perché voglio vedere tutte le posizioni adesso andiamo qua se è posto qua ma non posso andare a mettere da qui là interessante allora cosa abbiamo visto abbiamo qua poi uno solo qua posto abbastanza difficile questo qui ne ho anche un becco no no ma ma dai e bamba ma carino questo qui però ma è enorme sto giro ma è enorme sto giro ma è enorme sto giro ma è enorme ma è enorme sto giro Grazie a tutti. 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 Un pesce. Un pesce. Un pesce. Grazie a tutti. 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 Interessante. Però... un peice. Un pezzo e... Un pezzo e... un pezzo. ma cos'è? non servo per forza cominciamo a eliminare anche questo diventa un problema grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dai. mettiamo anche un vermetto finale e secondo me questo non dico che sia amicidiale ma quasi secondo me che qua lo prendo lo prendo sicuro lo prendo vai proviamo eccolo lo sapevo guarda che l'ho preso minchia merda settina janus discreto sdio Conserva E' da trofeo, ho preso un pezzo da trofeo Comunque questo gioco qua è free Sia da PC Che da PS Devi pagare una cioppa Così viene a pescare come a Janus E' da trofeo Si, si Ah Invece di te poi ce ne ho Porca paletta E' già Già Qua sono le pesce insieme ma non riesco a ganciarlo Dovebbe essere uno dietro l'altro Invece un'america cioppa Proprio Niente, mi sono un po' rotto Ubal Andiamo a cercare qualcosa altro Ma Ma questo l'ho fatto E non mi piace Vediamo qua Se troviamo qualcosa di più decente Questo cana ruffo qui Questo cana ruffo qui Non mi piace Non mi piace Eppure lavoro benissimo eh Ravora veramente bene Ravora veramente bene E' già Andiamo a cercare E' già E' già E' già attimo va non si dice buona pesca jano sporca paletta va bene ciao cinghiale alla prossima ciao cinghiale pure fighissimo davvero diglielo diglielo Alessandro diglielo ma lui non è un pescatore pensa che sto qua vivi in Australia micchia sarei tutto il giorno a pescare Jeremy Wayne verrebbe a casa mia oh eppure si muove da dio eppure si muove da dio niente ah niente aumentiamo la frullata glielo mettiamo a 3 se glielo aumenta un po' due stecche glielo facciamo calare torniamo su glielo facciamo calare di nuovo torniamo su vorrei ditene se no lo facciamo saltare ogni tanto davanti facciamo saltare davanti lo facciamo saltare davanti lo facciamo saltare davanti che cacchio non vuole di salire ci sono no non mi piace per niente allora questo di nuovo all'osa ok mappa vai eppure lì ci sono non si attaccio il fondo Niente, l'Evergrass è un gran gancio Non riesco a trovare la posizione ideale Perché sganciare qualcosa, le mie bombe Prendiamo un riferimento per l'albero là Tremendo, eh, tremendo Tremendo, eh, tremendo Allora, per solo questo, se cosa è un timer book, eh La buca è lì La buca è là Non sarei io No, ho sentito il toccato, affanzo L'ho sentito Ehm... Perciò vuol dire che là ci sono Devo un momento a trovare... Eh, aspetta... La buca c'è lì? Tiene proprio nella buca Ehm... 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 Oh, bella lancia questo Oh, bella lancia questo Oh, bella lancia questo Ehm... Ehm... È qua la buca, Loren Ehm... Grazie. Ma allora la buca, forca paletta la buca qui. No. La sentite. No. Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti